Benvenuti ragazzi sono Mario, non ti salve nel prossimo video, raga oggi siamo alla settima tappa di questa serie del Gio Italia 2020, subito un bel like mi raccomando, oggi raga una tappa più pianeggiante con solo i due gpm, uno di quattro e una terza categoria nelle fasi iniziali appunto della tappa, quindi una tappa comunque molto corta anche a 190 km e una tappa che si dovrebbe concludere con arrivo in volata di gruppo compatto. Quindi raga andiamo subito allo sprint intermedio, raga siamo a 1,900 km dallo sprint intermedio, siamo qui con Moschetti, la ruta di Gaviria, di Fernando Gaviria, c'è anche Cristof, ultimo km dallo sprint raga mi raccomando, devo provare a vincere questo sprint, è parte della volata, E parte Kale Bivan, partiamo anche noi, partiamo abbastanza indietro raga, comunque prendiamo qualche punto sicuramente, vediamo un po' ora eh, prendiamo quattro punti e ci vediamo allo sprint finale. Eh, ragazzi siamo a 1,900 km a medio al traguardo e penso questa volata sia abbastanza da dimenticare, perché siamo appunto all'ultimo chilometro quasi, ancora molto molto indietro, quindi non faremo neanche lo sprint, è molto probabilmente, e infatti. Andiamo, vediamo in che posizione arriviamo, comunque penso che abbiamo... Comunque raga, questa volata è andata malissimo, quindi andiamo subito alla sfida di tappa. Raga, e a vincere questa tappa è stato Grone Vegan, secondo posto per Iwan e terzo posto per Gaviria. Noi raga, arriviamo noni con Teuns, dodicesimi con Pedersen e con Moschetti, trentatresimi. Quindi raga, andiamo subito alla classifica generale. Ed eccoci qui raga, che è la classifica generale, che per esempio raccomando, Egan Bernal con Vincenzo Nibba, Nibba di secondo a 1 minuto e 26 secondi, Terzo, Gengai and Thomas a 1 minuto e 26 secondi, e chiude la top 10, Beno. Quindi raga, mi raccomando, da me non trovate se è tutto, lasciatemi un bel like, mettete, condividete il video, iscrivetevi al canale se non è piaciutti, da me non trovate se è tutto, Beno.